E' uno dei presepi più antichi del Molise. A San Polo Matese, come ogni anno, torna in scena il presepe vivente, un evento che unisce la fede, la storia e le tradizioni locali. Questo è il presepe più caratteristico e più fedele, credo, del Molise. È un appuntamento straordinario che la nostra comunità ogni anno vive e rivive con la nascita di Gesù Bambino. Tutta la popolazione di San Polo e dei comuni limitrofi vengono qui, ognuno al proprio posto, come sempre, e fanno di questo presepe uno spettacolo unico, credo, nel suo genere. Oltre 130 figuranti, distribuiti in 25 scene, per raccontare 35 anni di tradizione presepistica, avviata da Don Angelo Spina, allora parroco del paese, oggi arcivescovo di Ancona. Questa rappresentazione che Don Angelo Spina, oggi arcivescovo di Ancona, ha tenuto tanto a iniziarla e io nella tradizione mi incanalo, perché la tradizione pone l'identità della comunità e questo fa veramente onore a me, come parroco e a tutta la diocese. Quindi, viva il presepe di San Polo Matese. Il presepe vivente è organizzato dalla parrocchia, dall'amministrazione comunale e dalla proloco del paese. Si racconta la natività di Gesù, ma anche la storia del territorio. Qual è il messaggio che volete dare con questa iniziativa? Il messaggio della semplicità, del ritorno al lavoro, del ritorno, insomma, a quello che è poi l'equilibrio che c'è sempre stato nei nostri territori. Tradizione e fede per raccontare il presepe vivente di San Polo Matese. Grazie a tutti.